Tutto pronto e tutti già pronti per la tre giorni alpina di Vicenza. Antena 3, come ogni anno, sta organizzando con le ultime tecnologie di trasmissione la copertura totale degli eventi in programma. A partire dai collegamenti in diretta nei telegiornali, che stanno già raccontando l'attesa della città e l'arrivo delle penne nere da tutta Italia. Ma è da venerdì che seguiremo tutte le cerimonie ufficiali, a partire dall'alzabandiera in Piazza dei Signori, in contemporanea con i sacrali del Pasubio e del Monte Cimone, di Asiago e del Grappa, oltre che dalla colonna mozza dell'Ortigara. Eventi che comporranno dalle 21 uno speciale alpini con le immagini più belle di tutti gli eventi della giornata. Sabato invece inizieremo dalle 11, alternando alle notizie del giorno le impressioni alpine di Vicenza con i nostri inviati, che dalle 13 daranno il via ad una non-stop di collegamenti continui, alternando gli eventi in centro storico, come il lancio dei paracadutisti in Parco Querini, ai commenti delle penne nere che raggiungeremo negli accampamenti allestiti sia a Vicenza che nei comuni limitrofi. Poi dalle 20 e 30 inizierà la serata dedicata alla musica e al canto, con le esibizioni di quattro fanfare allo Stadio Menti, alternate ad oltre una cinquantina di cori che si esibiranno nelle chiese cittadine. Non mancherà l'atmosfera della serata con collegamenti dal cuore della città. Infine domenica la nostra diretta della sfilata inizierà dalle 7, con i commenti e le emozioni sia della città appena sveglia, che dal punto di ritrovo degli alpini per l'inquadramento e l'inizio dello sfilamento. E dalle 8.45 con l'arrivo del Labaro nazionale, tutta la sfilata senza interruzioni, anche con i vostri messaggi, che si concluderà con immagini dedicate del passaggio della stecca con biella e la maina bandiera verso il nuovo appuntamento di giugno con la triveneta alpina di Bibione.